A Ferragosto il cibo si trasforma in arte a tavola con gli amici, magari in un ristorante stellato. Sono sempre di più gli aquilani che archiviano il picnic, optando per un comodo ristorante. A suggerire il menù di Ferragosto è lo chef William Zonfa, tutti piatti all'insegna della tradizione abruzzese, resi accattivanti dalla fantasia dello chef. Incominciamo da piatti molto freschi, che è una battuta di manzo. A seguire abbiamo giocato molto con il vegetale, quindi facciamo un distillato di fagiolino con gambere gregoriano, quindi riprendiamo un po' quello che è l'innovazione legata a una tradizione. Il primo piatto, uno dei due primi piatti, è un tortello ripieno di un concentrato di porcini con tartufo estivo e un affogato alla cacciotta di Campofelice. Diciamo un raviolo a sorpresa perché alcuni si aspettano un ripieno solido, invece questo raviolo ha un ripieno liquido, quindi è un assoluto concentrato di porcini che nel momento in cui noi andiamo a mangiare questo tortello abbiamo questa liquidità che ci avvolge la bocca ed è molto concentrata con il porcino. A chiudere il piatto è questa spuma calda di cacciotta di Campofelice che è molto avvolgente, è la nota un po' grassa del vegetale del piatto. E per quanto riguarda il dessert, i dessert sono molto, come ho spiegato, molto concentrati sulla freschezza, quindi c'è questa mela verde centrifugata assieme a un dolce realizzato sempre con mela verde e meringa che praticamente crea queste due consistenze che dà omogeneità al piatto. Grazie. Grazie.